Sono felice quando vedo i governanti che aprono il cuore e aprono le porte. E' una delle affermazioni a braccio del Papa all'udienza generale tenuta in piazza San Pietro davanti a più di 25.000 persone. Francesco ha parlato dei milioni di migranti in cerca di una nuova patria, affermando che Dio non è assente neppure oggi in queste drammatiche situazioni. Dopo cinque anni di guerra la Siria possa finalmente ritrovare la pace e l'auspicio espresso ieri sera dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione della mostra Antiquorum Abet sulla storia dei giubilei inaugurata Palazzo Giustiniani a Roma con il Presidente del Senato Pietro Grasso. Per il porporato bisogna sperare nel successo dei negoziati di Ginevra. Da piazza Venezia fino alla Basilica di San Giovanni in Laterano attraversando via dei fori imperiali e fermandosi a pregare davanti il Colosseo, lì dove furono martirizzati in nome di Cristo migliaia di uomini e donne. È la Via Crucis Diocesana dei Giovani promossa dagli uffici della Pastorale Universitaria Giovanile Vocazionale che partirà venerdì 18 marzo alle 20 davanti alla chiesa di Santa Maria di Loreto al Foro Traiano. Intervista al Vescovo Lorenzo Leuzzi, direttore dell'ufficio per la Pastorale Universitaria. Udienza generale del mercoledì con 25.000 fedeli presenti in piazza San Pietro. Catechesi a partire dai capitoli 30 e 31 del profeta Geremia chiamati il Libro della Consolazione perché in essi la misericordia di Dio, ha detto il Papa, si presenta con tutta la sua capacità di confortare e aprire il cuore degli afflitti alla speranza. Francesco ha invitato i presenti ad ascoltare questo messaggio di consolazione, un annuncio che si rivolge agli israeliti che sono stati deportati in terra straniera e stanno per rientrare in patria. Questo rientro è segno dell'amore infinito di Dio Padre che non abbandona i suoi figli ma se ne prende cura e li salva. Anche noi possiamo vivere a volte una sorta di esilio quando la solitudine, la sofferenza, la morte ci fanno pensare di essere stati abbandonati da Dio. Quante volte abbiamo sentito questa parola? Dio si è dimenticato di me. Tante volte persone che soffrono si sentono abbandonate. Quanti nostri fratelli stanno vivendo in questo tempo una reale e drammatica situazione di esilio, lontani dalla loro patria, con negli occhi ancora le macerie delle loro case, nel cuore la paura e spesso, purtroppo, il dolore per la perdita di persone care. In questi casi uno può chiedersi dov'è Dio. E ancora, sono le parole del Papa, com'è possibile che tanta sofferenza possa abbattersi su uomini, donne e bambini innocenti. Anche quando cercano di entrare in altra parte, li chiudono la porta. E sono lì, al confine, perché tante porte e tanti cuori sono chiuse. I migranti di oggi che soffrono, che soffrono all'aria, senza cibo, e non possono entrare. Non sentono l'accoglienza. A me piace tanto sentire quando vedo le nazioni, i governanti che aprono il cuore e aprono le porte. Il profeta Geremia ci dà una prima risposta. Il popolo esiliato potrà tornare a vedere la sua terra e a sperimentare la misericordia del Signore. È il grande annuncio di consolazione. Dio non è assente neppure oggi in queste drammatiche situazioni. Il Signore è fedele, non abbandona la desolazione. Dio ama di un amore senza fine, che neppure il peccato può frenare. E grazie a Lui il cuore dell'uomo si riempie di gioia e di consolazione. Nella gioia e nella ricorrenza gli esuli torneranno a Sion salendo sul Monte Santo verso la casa di Dio e così potranno di nuovo innalzare inni e preghiera al Signore che li ha liberati. La terra che il popolo aveva dovuto abbandonare era divenuta preda di nemici e desolata. Ora, ha detto il Papa, riprende vita e fiorisce. E gli esuli stessi saranno come un giardino irrigato, come una terra fertile. È così che il popolo viene fortificato e consolato da Dio. Questa parola è importante, consolato. Il Salmo ci dice che quando tornarono in patria, la bocca li si riempì di risso. Era la gioia tanto grande. È il dono che il Signore vuole fare anche a ciascuno di noi, con il suo perdono. Il Signore Gesù ha portato a compimento il messaggio del profeta che è quello della consolazione data al cuore che si converte. E Francesco ha concluso la sua catechesi ricordando che il vero e radicale ritorno dall'esilio e la confortante luce dopo il buio della crisi di fede si realizza a Pasqua nell'esperienza piena e definitiva dell'amore di Dio, amore misericordioso che dona gioia, pace e vita eterna. All'udienza generale il Papa si è rivolto con particolare affetto ai pellegrini cristiani di lingua araba, specialmente quelli provenienti dal Medio Oriente, che stanno vivendo un esodo forzato dalle loro terre a causa delle violenze, della guerra e del terrorismo. Queste le sue parole. Quante esperienze di esilio e di epatrio, di dolore e di persecuzione che ci spingono a dubitare perfino della bontà di Dio e del suo amore per noi. Dubbio che si dissipa di fronte alla verità che Dio è fedele, vicino e compie le sue promesse per coloro che non ne dubitano e per coloro che sperano contro ogni speranza. La consolazione del Signore è vicina a chi sa attraversare la dolorosa notte del dubbio, aggrappandosi e sperando nell'alba della misericordia di Dio che tutta l'oscurità e l'ingiustizia non potranno mai sconfiggere. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. Al termine dell'udienza generale, Papa Francesco, salutando i pellegrini polacchi, ha ricordato la prossima giornata mondiale della gioventù a Cracovia. Il Pontefice per questa occasione sarà in Polonia dal 27 al 31 luglio prossimi. La GMG si svolge nell'anno giubilare sul tema Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Queste le parole del Papa. Oggi in modo particolare mi unisco spiritualmente alla gioventù di Cracovia, radunata nella Tauron Arena, per vivere insieme l'evento giubilare Giovani e Misericordia. Cari amici, passando attraverso la porta della misericordia, celebrando il sacramento della penitenza, raccogliendovi nell'adorazione del Santissimo Sacramento e nella meditazione sul buon samaritano, seguite Cristo misericordioso, affinché accogliendo i vostri coetanei durante la prossima giornata mondiale della gioventù, siate i suoi autentici testimoni. Il Signore vi benedica. Dopo cinque anni di guerra, la Siria possa finalmente ritrovare la pace e l'auspicio espresso ieri sera dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione della mostra Antiquorum Abet sulla storia dei giubilei, inaugurata a Palazzo Giustiniani a Roma con il presidente del Senato Pietro Grasso. Per il porporato bisogna sperare nel successo dei negoziati di Ginevra. La mostra Antiquorum Abet è ospitata nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani fino al primo maggio. L'esposizione offre a pellegrini e visitatori la possibilità di approfondire la storia dei giubilei dal 1300 ai giorni nostri, dagli itinerari dei pellegrini alla storia delle basiliche papali. Manoscritti e libri a stampa, antichi e moderni, incisioni, giornali e riviste, fotografie provenienti dalle raccolte librarie e documentarie del Senato della Repubblica. Per il Cardinale Parolina la mostra è un segno di attenzione per l'anno santo voluto da Papa Francesco. La pastorale universitaria, giovanile e vocazionale promuovono una via crucis, appuntamento venerdì 18 alle 20 a Santa Maria di Loreto al Foro Traiano, a Piazza Venezia. Una via crucis per tutti i giovani. Sì, è la prima volta che la Giocesi di Roma propone a tutti i giovani di ritrovarsi insieme alla vigilia della giornata mondiale della gioventù, della 31esima giornata mondiale della gioventù che vivremo insieme a Papa Francesco in Piazza San Pietro, domenica delle palme, 20 marzo. Ma il grande appuntamento della Giocesi di Roma in preparazione a questo evento è la proposta di un cammino da vivere insieme nella preghiera, nella riflessione, nel silenzio, un percorso molto significativo perché ci condurrà nella Basilica di San Giovanni Laterano, sede della cattedrale del Papa, dove tutti insieme faremo esperienza di come l'esperienza ecclesiale è davvero il luogo della misericordia. Non c'è possibilità di incontrare il Vangelo della misericordia se non c'è un'autentica esperienza ecclesiale e noi vogliamo proporre a tutti i giovani di ritrovarsi insieme per dare testimonianza alla città che la Chiesa di Roma vuole incontrare tutti i giovani per presentare il Vangelo della misericordia nella consapevolezza che questo incontro può davvero cambiare la vita dei giovani e la Via Cruce si pone come momento importante di un cammino che i giovani stanno vivendo nelle parrocchie, nei collegi universitari nelle cappellanie in tanti ambiti della vita ecclesiale di Roma proprio perché insieme vogliamo dare testimonianza che oggi il risorto è presente nella storia e la Via Crucis è un grande momento per vivere insieme le condizioni fondamentali della preghiera della riflessione del silenzio e anche del sacramento della riconciliazione perché durante il cammino verso la Basilica sarà possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione è un grande momento per sperimentare che davvero il Signore Risorto ci accompagna e nell'esperienza della Croce si manifesta il momento più alto del suo amore per ciascuno di noi prima pagina dell'osservatore romano con la data del 17 marzo 2016 all'udienza generale l'invito di Francesco alle nazioni porte aperte ai migranti il ricordo di come l'Albania si è riuscita a rialzarsi nella dignità e nella fede Kerry in missione a Mosca speranze di pace per la Siria ucciso un jihadista durante una perquisizione legata alle indagini sulle stragi di Parigi ore di terrore a Bruxelles intervista a Benedetto XVI la fede non è un'idea ma la vita non è un'idea